Grazie a tutti. Per i fondelli, due notizie, direttorio nel Movimento 5 Stelle, scelti cinque parlamentari grillini che dovranno aiutare Grillo che ha detto come in Forest Camp sono stanchino e poi l'altra notizia riguarda la pattinatrice Caroline Koster deferita per quattro anni per le dichiarazioni sull'ex fidanzato Schmatzel. Allora, sentiamo ancora Nicolo Scibelli rispetto a tutto quello che ha scatenato dicendo che i ragazzi dovrebbero e vorrebbero entrare in politica. Allora, evidentemente mi sono spiegato male oppure sono stato interpretato nella maniera sbagliata. Io sono assolutamente una persona modesta e credo di avere solo da imparare qui oggi. Sono venuto apposta per imparare, per contribuire alla mia formazione personale. Tuttavia, prima ho parlato della scuola, ho detto che talvolta, anzi quasi sempre, mancano delle immagini politiche che possano coinvolgere gli studenti, i ragazzi. Non volevo intendere che i politici debbano venire a scuola a fare propaganda politica, non è questo il senso che avrei voluto dare alle mie frasi. I politici devono venire a scuola semplicemente a far sentire ai ragazzi parte di questo sistema politico. Quello che non succede, quello che a scuola mia non succede, sentendo gli altri ragazzi, manca, è che un politico, nella sua modestia politica, un consigliere comunale, diciamo così, o regionale, venga a scuola, anche fuori dalla scuola non per forza deve stare seduto su una scrivania a dare lezioni ai ragazzi. Prenda un gruppo di ragazzi e dica, volete fare politica? A parte il partito, c'è lo spazio anche per voi, se vi interessa venite questo pomeriggio, facciamo un evento solo sui ragazzi, solo per i ragazzi. Non credo assolutamente che dei giovani della mia età possano essere più preparati, più capaci della classe politica attuale, però sono convinto che non possano restare isolati i ragazzi della mia età, dalla politica attuale. Questi giovani hanno davvero voglia di contribuire, nella loro modestia, hanno voglia di avere una parte all'interno di questo sistema. Tutto qua, insomma. E quindi, insomma, devono anche avere la possibilità e la capacità di prendercela, a parte questo ruolo, no? E tanti ragazzi, magari, in questa fase, appunto, dicevamo prima, non la trovano in Italia, ma vanno cercarla all'estero, mentre altri dovrebbero e vogliono restare qui. Si può chiedere cosa fa lui? Cosa studierà? Io studio, sì, sì, io per ora faccio la quinta superiore del liceo linguistico, e vorrei fare l'università, esatto. Però noi, a differenza di tanti giovani, non abbiamo nessunissima intenzione di andare all'estero, nonostante sembra che questo sistema ci voglia spingere all'estero. Ma bravo. E anche lei, che è una professoressa, noterà che tanti ragazzi sanno di non avere futuro in Italia. Questa è una cosa terribile, è una cosa terrificante. Non è possibile che questo messaggio da ragazzi di 20 anni, 18 anni, 19 anni passi, non si può immaginare. Io, sinceramente, non mi immagino un futuro. Fra 20 anni, che cosa succederà? Fra 20 anni, fra questi ragazzi, chi è che sarà rimasto qui, chi sarà all'estero, chi avrà un futuro? Beh, qualcuno sarà anche rientrato, no? Si spera, si spera. E' sempre un'esperienza. Allora, sentiamo l'ingegner Carraro, poi torniamo da Borraggio perché voleva intervenire sempre su Venezia. Prego, ingegnere. Allora, forse noi siamo quelli del nonu con debì, continuano le combate. Siamo quelli del siete realisti, chiedete l'impossibile, cose che oramai sono datate. Allora, al giovane studente consiglio di diffidare dei politici, hanno tutti l'AIDS, abbiamo 64 anni di esperienze deficitarie. Cosa potete apprendere da questa classe politica che dice una cosa nei talk show, dice un'altra per essere all'opposizione? Si fanno l'opposizione tra la sera e la mattina, quindi diffidate Timeo Danaos e Dona Ferentes, è sempre quella. Ricordatevi, voi dovete studiare economia per capire come funziona la politica. Studiatevi la scuola austriaca, io vi do dei consigli, non spendete soldi per il sito web. L'arena politica oggi è su Facebook, lì ci sono i gladiatori, il sito, il blog, è roba vecchia di 30 anni fa oramai. L'arena è su Facebook e soprattutto confrontatevi tra di voi. I politici hanno soltanto una scia di fallimenti, non vi possono insegnare niente, anzi potete solo dire cerchiamo di non fare come loro. La stessa storia di una democrazia cristiana vincente è la storia di un altro universo, di un altro mondo dove si stampavano la moneta e infrazionavano per pagare le spese pubbliche. Non c'è più questa roba qua, non c'è più un partito comunista egemone, non c'è più, è fallito. Quindi misurare il domani con i concetti di ieri e perdenti in modelli matematici di ieri, anche economici, sono falliti. Keynes non vale più una pipa, stiamo andando al disastro con la Targentina, con il Giappone che ha il collasso. Studiatevi l'economia e qui mi taccio. Allora, poi torniamo da Biolcatti, però ancora Borraso su Venezia. Volevo non rispondere all'amico Iva, perché ha centrato un tema, che non è un tema di Venezia. Io lo dico da coordinatore della lista civica, impegno per Venezia, maestro e isole. Ma attenzione, è ciò che ha detto Paolo Costa. È evidente, ma è un problema del Veneto in questo momento. Perché gli investimenti che possiamo realizzare su Porto e attorno al Porto di Venezia devono essere difesi. Sono stati spesi 800 milioni di euro per rafforzare la stazione marittima in Venezia, come hub del mondo per il turismo marittimo. Possiamo noi pensare che questo investimento deve essere gettato con quasi 5 mila persone che ci operano, solo perché qualcuno grida di più degli altri. Io non accetto la posizione di un ministro che dice che dal primo gennaio tutti fuori. Vogliamo il tutti fuori. Prima si danno le alternative. Partono le alternative che comunque valorizzano gli investimenti effettuati su Venezia. Dopodiché si fanno le scelte. Ma non possiamo... Perché attenzione, io lo dico alla tocchetto... No, scusami, tra parentesi un ministro che è di Genova. Sì, ma la tocchetto. Lo dico a tocchetto perché io non sono del PD, anche se sono uno di quei che ha sostenuto Renzi, nella speranza che ci sia un rinnovamento, un cambiamento di questo paese. Lo avevamo battuta, Genova. Attenzione, che la guerra è tra il Veneto come area territoriale... E il Friuli. E il Friuli, Venezia e Giulia. Perché c'è una signorina sposata che si deve darsi... Qualcuno gli deve dare una regolata perché io capisco che questo governo non ha espresso un ministro veneto. Perché dobbiamo ogni tanto ricordarci, tutti assieme, che in questo governo non c'è un ministro veneto. L'ultimo era Zanonato, talmente bravo, che gli hanno fatto... So che ti è piaciuto molto Zanonato. Gli hanno fatto PUC e per premiarlo... E' andato in Europa e non lamentarti, dai. Era talmente bravo che non avevamo bisogno di un ministro veneto. E l'hanno mandato in liquidazione. Ce n'è uno che ha un nome veneto. Abbiamo due sottosegretari, tra l'altro anche di area veneziana. Zanetti e Varetta. Zanetti e Varetta. Che probabilmente non esprimono un colpo su questa vicenda. Mentre la Sera Chiani... E qui bisogna che si dà una regolata. La signorina non può pensare di fare il vice segretario reale del partito pensando solo a Trieste e ai suoi interessi di bottega. Non può togliere 100 milioni di euro... Ma per quello avremo la Moretti che difenderà il territorio. La regione Palastro ha tentato di togliere 100 milioni di investimenti nella città che ha il più alto tasso di disoccupazione del Veneto per spostarli a Trieste. Ma io mi aspettavo che tu dicessi che togliesse invece l'autonomia che ha la regione a Sartuto Speciale. Io su questo ti verrai pure dietro o contro la Sera Chiani. Sai, il problema è difficile. Non sta facendo... Lei fa un buon lavoro per il Friuli Venezia e Giulia. Non può fare il vice segretario di un partito nazionale e pensare sulle sue interessi di bottega. Perché dovrebbe togliere i privilegi, come dici te, giustamente, lo diciamo più volte, delle regioni a Sartuto Speciale e distribuire le risorse a chi ne ha di meno. Posso dirti una cosa? Ma è possibile? Posso dirti una cosa? Io dovevo partecipare a un convegno. Poi sono andato al convegno e parlavano di costruire palazzi e hotel, di fare un casino a Marghera. Cioè io ero andato lì con un'altra idea. Creare Marghera e Porto Marghera, una zona franca, dove... Frison. Aspetta, dove di creare, però attenzione, la residenza fiscale. Cosa vuol dire questo? Lì paghi le tasse più agevolate, in una certa maniera, perché così attiri gli investimenti. la residenza fiscale vuol dire che tu lavori lì e paghi le tasse lì. Perciò non è che fai come ha fatto la Fiat, lavori in Italia, vai in Olanda, poi le tasse le paghi in Inghilterra, e così come fanno tanti altri. Che qualcuno di questo è anche... che qualcuno di questo è anche il Ministro della Repubblica Italiana, che non dovrebbe neanche farlo, si dovrebbe vergognare, tanto per dirtene una. Se poi uno mi dice che se c'è la Moretti difende il Veneto, allora io dico, la Moretti era il portavoce di Bersani fino a due giorni prima. Ma non vuol dire questo? Attenzione, poi due giorni dopo, in 48, ma non vuol dire niente questo? Ma che discorsi sono? Guardiamo le sue proposte. No, 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 io faccio discorsi sulla persona. Ma va bene, allora ne potremmo fare l'idea su tutte le tue deputate. Sulle zone franche, è vero, perché c'è il Presidente della Regione Sardegna, sta chiedendo in Europa la zona franco free zone per tutta la Sardegna. Vuoi che noi a Porto Marghera? No, ma se tu fai la zona franca lì a Venezia e con tutti i lavori, sei quanti investitori arrivano e sei quanto il lavoro dai a bene una notte. Ma io sono d'accordo ma è anticostituzionale, bisogna che ci ragioniamo. Ma chi l'ha detto è anticostituzionale? È anticostituzionale, ma chi l'ha detto? Sì, allora, non possiamo fare dei tributi diversi. Signora, se parliamo di... Allora, fatelo così, se parliamo di... ma non lo potete fare. Signora, se parliamo di... Perché allora vi ho proposto un controviso come zona franca. No, no, no. Perché no? Perché no? No, perché il tributo non potrebbe esserlo. Guardi, allora, studi la Costituzione... Ma se la studio bene, sono laureata in diritto costituzionale. La studi bene e guardi che il Polesine, il Polesine, il Polesine, ebbe negli anni in cui aveva dei problemi, era chiamata zona depresse, c'erano delle agevolazioni fiscali. Ma le agevolazioni è una cosa, è la stessa cosa che può fare a Venezia. Ma non è vero, ma non è vero. Allora continuiamo a uccidere. Non possiamo farla. Continuiamo a uccidere. No, ma io propongo a Treviso come zona franca. Continuiamo a Veneto. Ecco, guarda, uno a Treviso e l'altro al Veneto siamo perfetti. Allora, continuiamo, voglio andare avanti per un altro discorso. anche a me piacerebbe non pagare le tasse per quello che ho fatto a Venezia. No, 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 le tasse vanno pagate per il giusto. Le tasse vanno pagate e bisogna pagarle. Con la riforma che noi stiamo portando avanti, un lavoratore di quinto livello oggi, con 14 mensilità diviso per 12, porta a casa, alla fine, 1026 euro al mese. Con la riforma che abbiamo proposto ne porterebbe a casa 1159, 133 euro in più senza però far pagare i debiti pubblici agli italiani perché gli 80 euro che Renzi ha fatto sono costati 4 miliardi e mezzo di debito pubblico tanto per essere chiaro sui cose che le avevo detto qui. Un'azienda con 300 mila euro dopo arrivo di fatturato con 5 dipendenti oggi quando ha pagato le tasse va sotto di 19 mila euro perché c'ha lira per non deducibile e tutto quanto. Con la nostra riforma avrebbe un attivo di 15 mila euro. Allora non è che io sto parlando di numeri astratti posso portare e posso confrontarmi con qualsiasi economista e l'ho fatto qui una volta in trasmissione che non ha avuto il coraggio di rispondere perché le dico e le dico perché non ha avuto il coraggio di rispondere. Allora c'è una banca era stata creata nel 1919 la Credi la Crediop nessuno conosce chiudo subito direttore che era stato fatto da Alberto Beneduca un grande economista ministro del lavoro Beneduce Beneduce questo Beneduce cosa ha fatto? Lui ha fatto una cosa per finanziare le opere pubbliche arriva nel 90 è stata privatizzata adatta a San Paolo poi nel 99 è stata adatta a una banca belga italo-belga francese Dexia oggi noi abbiamo che questa società sta chiudendo tutto questa banca dopo avere in pettegolato 846 pubbliche amministrazioni con i derivati i surpri e le dico la Regione Piemonte ha fatto dei derivati e lì bisognerebbe mettere in galera sia quelli della banca che quelli della Regione per 52 milioni di euro li hanno fatto causa la Regione Piemonte ha perso la causa adesso paga i 52 milioni di euro paga le spese i più interessi di mora ma quelli non li paga chi ha fatto quello li pagano i cittadini permontesi così come succede a Prato così come succede in alcune città del Veneto così come succede in altri posti allora se noi abbiamo un primo ministro che dice che vuole bene gli italiani allora prima di tutto bloccherebbe queste cose qua perché dietro questa banca c'è la cassa depositi e prestiti francesi e le poste belghe allora uno va là e gli dice fermati là un attimo questi soldi perché facendo i calcoli è una settimana che faccio i calcoli ci sono due finanziari che i cittadini stanno pagando sotto altre forme di tasse allora abbiamo fatto un saldo di qualità a Craxi sono state lanciate le monetine a Renzi le uova vediamo adesso un servizio c'è una scuola c'è una scuola di formazione professionale in rivolta soprattutto le famiglie contro la direzione gli insegnanti vediamo il servizio della nostra redazione di Treviso si tratta dell'IPEA vediamo la scuola la scuola per acconciatori ed estetisti denunciata dai genitori della classe quarta per aver abbandonato i figli minorenni sulla strada anziché trattenerli in classe è la notizia del giorno una quindicina i genitori che stamani hanno presentato l'esposto denuncia in questura avevano denunciato che la scuola praticamente ci ha abbandonato i ragazzi sia maggiorenni e oltretutto ripetiamo minorenni nella strada i giorni che non c'erano i docenti certo perché loro lunedì come di solito di norma noi genitori giustamente abbiamo mandato i figli a scuola non sapendo di certo che non c'erano i professori cosa hanno fatto li hanno fatto scendere perché i professori non c'erano potevano uscire all'insaputa di noi genitori famiglie che ora con un avvocato chiederanno in class action anche i danni morali subiti dai figli che in tutta questa intricata vicenda sono sottoposti a pesanti ripercussioni psicologiche conclude la portavoce dei genitori andremo per vie legali perché noi abbiamo deciso di non fermarsi noi giustamente abbiamo bisogno che la regione ci dia una mano perché questo corso deve essere fatto perché i figli hanno diritto di studiare come noi da famiglie ci impegniamo a pagare e è molto probabilmente noi non ci fermiamo perché vogliamo sapere questi soldi dove sono finiti allora speriamo che l'ipotesi di Amato Presidente non si avveri mai Marotto voleva dire poi sentiamo la a parte le battute che abbiamo fatto prima io penso che in generale per migliorare un po' la situazione innanzitutto bisognerebbe che la burocrazia fosse non dico eliminata ma quasi azzerata il problema vero è di questo paese che abbiamo una burocrazia mastodontica che fa aumentare i problemi a dismisura di tutti soprattutto degli imprenditori io faccio un esempio stupido per far capire per chiedere un codice fiscale uno può anche telefonare uno può fare la domanda e tutto fa la domanda ma per fare la domanda deve compilare un modulo e va benissimo nel modulo deve mettere il codice dell'associazione cos'è se è un'associazione non riconosciuta riconosciuta eccetera e sulle spiegazioni allegate al modulo c'è la tabella dove tu tiri fuori il numero che devi mettere perché la tua associazione è ad esempio associazione non riconosciuta il numero 12 poi c'è da mettere il codice attività il codice attività fai un'altra tabella metti un'altra tabella e no è troppo difficile mettere la tabella lì uno deve diventare deficiente andare sul sito del www agenzia entrate quello che è andare dentro alla tabella e vedere se riesce a beccare la voce giusta io mi domando come è possibile che andiamo avanti così uno che deve domandare un codice fiscale magari per aprire una partita IVA per cominciare a lavorare siamo ridotti questo è un problema che dobbiamo risolvere e questo è una cosa che va fatto anche nei comuni io credo anche in comuni di Venezia dove la burocrazia purtroppo è tanta e soprattutto in tema edilizio mi risulta che a Venezia sia ancora di più che in altre parti d'Italia e credo che questo non sia più accettabile perché se da una parte c'è chi lavora onestamente poi è vero sindaco ci sono tanti che purtroppo non fanno un pifero e magari anche quei pochi che non fanno un pifero fanno perdere la faccia ai tanti che lavorano però ci sono anche tante persone che hanno bisogno di lavorare senza che ci siano più orpelli un'idea è quella di abbattere la burocrazia cosa che purtroppo ce lo diciamo questo governo deve impegnarsi un po' di più a farlo perché fino adesso purtroppo non ha fatto nulla purtroppo non lo ha fatto anche sulle partecipanti da togliere su un comune per aprire un negozietto che era una fesseria va al piano di sopra è tutto a posto stai tranquillo va al piano di sotto e dice no deve rifare tutto del grande piccolo comune un piccolo comune su un piccolo comune allora vediamo da Padova abbiamo un servizio sull'emergenza a casa avevamo altri servizi purtroppo un bambino di 12 anni oggi si è lanciato dal terzo piano della sua scuola non è in pericolo di vita aveva preso un rimprovero molto pare forte perché aveva falsificato la firma dei genitori se avessimo tempo chiederei a Morena Martini questi casi se ci sono ci sono modi e modi per intervenire per sanzionare per per punire un ragazzino di 12 anni non sappiamo come è andata ma insomma è salito sul banco che si è buttato dalla finestra per la vergogna vediamo però questo servizio da Padova invece sull'emergenza abitativa perché il titolo è questo l'ennesima luce in fondo al tunnel e si campa cavallo che l'erba cresce vediamo vediamo un attimo l'ultimo episodio di tensione in ordine di tempo è lo sfratto di una coppia di origini marocchine a Villa Franca Padovana a ostacolare le operazioni 25 attivisti dello sportello antisfratto che si sono frapposti alle forze dell'ordine l'emergenza a casa è un problema concreto in città in provincia sono molte le persone che non possono più permettersi di pagare un affitto l'emorragia non sembra destinata a fermarsi in tempi rapidi da un dato che abbiamo recepito proprio dal comune di Padova negli ultimi 4 anni se nel 2010 se non ricordo male avevano 16 sfratti nel 2014 credo che abbiano avuto 216 segnalazioni per dire come il numero di segnalazioni di sfratti sono notevolmente aumentate la Caritas in questi mesi ha affrontato i casi più problematici con soluzioni temporanee ospitando le persone nelle parrocchie noi riusciamo in questo momento ad accogliere grazie ad alcune parrocchie che hanno messo a disposizione degli spazi alcune persone anche se sono numeri piccoli 16 persone presso proprio le parrocchie dando la possibilità a persone che hanno perso la casa di essere accompagnate e sostenute la Caritas sta usando anche il fondo straordinario di solidarietà noi non abbiamo una soluzione a questo problema certo che per quello che è nelle nostre possibilità lavoriamo affinché le persone attraverso il fondo straordinario di solidarietà possono avere un lavoro temporaneo in modo da non cadere nella questione dello sfratto intervista di Lorenzo Monegato Antonio Dottocchetto allora si vota domenica per le primarie dalle 8 alle 20 però dove? la gente dice dove devo andare? ci sono per esempio per quello che riguarda Treviso ci sono 5 punti ci saranno dei banchetti nelle piazze poi ci sarà la sede del partito dove si andrà a votare però nel sito del PD regionale e quindi anche locale potete trovare tutti i posti dove sono stati allestiti i seggi che ovviamente sperando anche che sia una bella giornata li faremo anche molti all'aperto in ogni caso ci auguriamo che venga anche tanta gente perché è un momento diciamo così di democrazia che è molto interessante e comunque insomma dentro la serata poi ci sarà lo scrutino e sapremo anche chi inizierà a correre contro Zaia e contro quindi l'avversario quindi potete vedere andate tanti a votare ma lo vedete nei vari siti delle varie città o paesi al quale appartenete però molti saranno insomma e si pagherà ovviamente 2 euro però facciamo votare anche chi dice che non pagherà perché non hai soldi ma allora vorremmo votare la Martini costa sempre 2 euro o costa 2 euro la Martini possono votare anche la Martini non ci sarebbe non ci sarebbe neanche Stolla se fossi candidata io vincerebbe 10 a 0 ma con l'astensionismo che si è visto in Emilia Romagna e in Calabria lei pensa che i Veneti andranno a votare forse forse il discorso delle primarie è un discorso diverso e con l'analisi del voto che è stata fatta probabilmente il centro-sinistra ma non raggiungeremo più i voti le percentuali storiche che abbiamo fatto a mio parere assolutamente no invece sul discorso del disagio scolastico nel rimprovero ci sono sì modi e modi io dico sempre che e lo dico ai genitori lo dico anche ai colleghi possiamo fare tutto ma non umiliare un ragazzo un ragazzo non va mai 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 umiliato perché lo sbaglio la prepotenza eccetera anche l'atteggiamento negativo anche la maleducazione dobbiamo sempre pensare che viene da un ragazzo viene da uno che è minori possiamo dire ad uno studente che è maleducato che ci ha mancato di rispetto che ha fatto una marachella senza umiliarlo e sta lì alla bravura dell'insegnante che in quel momento diventa educatore è proprio quella è proprio quella poi ci sono delle fragilità tremende nella scuola tanti ragazzi sono molto fragili molto più fragili di una volta ingegnere l'immonda bestia l'immonda bestia è viva e vegeta è viva e vegeta e certo e fa pressione continua sulle tasche degli italiani ricordatevi che ogni giorno che passa voi pagherete sempre più tasse fino a quando andremo allo schianto l'esempio tipico sui carburanti è chiaro che non possono diminuire perché quando il petrolio era a 110 l'incidenza delle accise è 60 è sceso a 79 ma a questo punto l'incidenza delle accise sarà il 75% proprio perché non mutano quindi noi siamo in balia di una banda di governativi che scendono in piazza pistole alla tempia dell'automobilista e lo spremono ma dopo ci sarà bollo ci sarà auto ci sarà la tv io ripeto non è un problema di canone è un problema che ci hanno rubato il voto si chiama colpe questo si chiama colpo di stato perché l'Italia ha votato a maggioranza contro il servizio pubblico non voglio sentire parlare di servizio pubblico perché se no meno la gente ci hanno rubato il voto allora Presidente qua dobbiamo chiudere un po' si si io so due cose la prima io so quando la procedura di votanti in Veneto schizzerà i massimi storici alle regionali no quando andremo a votare per l'indipendenza nel 2029 anche nel 2059 no no nel 2029 dai calcoli anche nel 2029 ma quando voteremo ma certo vedi schizzerai ma però negli altri stati non è stato così e dove l'hanno fatto anche in Catalonia quindi starei un po' attenta quindi non è ne frega nulla della Catalonia io sono Veneto e quindi voterò in Veneto e anche in Gran Bretagna la Scozia non è andata così sono in Veneto e voteremo in Veneto ma lo so se la sarà quando la seconda cosa seconda cosa qualcuno prima non mi ricordo chi forse Borrasio ha detto adesso che la chiamano legge di stabilità lei detecola allora Borrasio dobbiamo ricordarci che l'orrenda bestia l'immonda l'orrenda bestia assume le più svariate forme per sbranare gli inermi cittadini quando noi avevamo la finanziaria nell'immaginario collettivo uno fa la finanziaria il capo famiglia nella sua famiglia fa il piano finanziario per cambiare la cucina la lavatrice quindi nell'immaginario legge finanziaria significa programmare gli investimenti le spese le entrate le uscite quando siamo andati in Europa hanno scientemente cambiato il nome della legge finanziaria perché il messaggio subliminale che deve passare è che voi non contate più nulla cittadini europei per cui non mi interessa il vostro piano finanziario di entrate uscite investimenti voi dovete vivere soffrire farvi spremere per assicurare stabilità alle grandi multinazionali finanziarie ecco perché hanno cambiato il nome da finanziaria legge di stabilità questa è l'immonda bestia cancerogena che ci porta in mezzo beh riconosci però Ivan che comunque Renzi è andato in Europa e gli ha detto alla Merkel beh stai calmina che noi non rispettiamo le tue rete quindi a seppurati a Tonella ma tanto l'ha detto a Tonella senti senti a Tonella ma senti a Tonella io ti voglio bene perché ti conosco da sempre ti conosco da sempre pensa che militavamo insieme esatto ma credimi Renzi sta facendo danni dei repubblicani Renzi sta facendo danni a questo paese che ci vorranno 50 anni per imparare va bene come potete esatto 23-04 si scoprono anche gli altarini qui a vecchi amori lo sapevamo nelle barricade non nel 68 no no sono qua non c'è a Tonella a Tocchetto non c'era si è la peso e adesso non c'è allora grazie a tutti veramente ci chiude una settimana complicata perché appunto ci sono e poi torneremo a parlarne ovviamente già lunedì martedì la prossima settimana quindi state ancora con noi anche stasera tantissimi tantissimi sms abbiamo no no non possiamo vabbè non possiamo fare propaganda allora scusate ringrazio Nicolò Scibelli perché speriamo che dopo di lui vengano tanti giovani questa è una tribuna aperta chi vuole venire parlo ai ragazzi venga chieda come ha fatto lui ci telefoniamo ci sentiamo venite in studio e raccontate le vostre storie grazie a tutti buonanotte grazie ai vostri ospiti a voi grazie arrivederci da quando ho scoperto il contratto online di Ascotrade risparmiare su gas e luce è diventato facile e veloce consulta l'offerta a forza doppia web su ascotrade.it energia dalle nostre mani MT Camini a Giavera del Montello canne fumarie certificate con soluzioni su misura MT Camini nessun fumo negli occhi